Ciao ragazzi e benvenuto nella seconda parte Allora, stavamo qui che dovevamo portare la casa a Franklin Sto sfondando il muro Voglio fare una cosa epica Che cazzo fa Ho finito la missione, guarda Raga, vabbè, ho finito la missione Sì Abbiamo finito la missione ragazzi 88% Anche se è una pippa E noi ci vediamo come al soldo Vi invito a lasciare un mi piace e un commento E noi ci vediamo al prossimo video Salve a tutti